Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime Il nostro classico appuntamento settimanale Dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana Sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale Come sempre ragazzi vi ricordo di guardarlo tutto questo video Tanto è brevissimo e mi raccomando date un'occhiata anche alla sua descrizione Perché potete trovare tante informazioni che vi potranno tornare utili per partecipare a questi eventi Va bene ragazzi come sempre direi di partire da Mario Kart 8 Deluxe Il torneo di settimana scorsa è stato veramente veramente spettacolare E quindi quello di questa settimana non poteva essere da meno E allora ho deciso di chiamare il torneo di questa settimana Fortnite vs Clash Royale Ho deciso di dedicare questo torneo a due dei titoli più famosi su YouTube Ci stanno giocando veramente un sacco di persone Il torneo ragazzi su Mario Kart 8 Deluxe si svolgerà il 16 febbraio dalle 20.30 alle 21.30 Sarà un torneo a squadre dove potrete decidere se schierarvi con la squadra Fortnite E quindi ragazzi sarebbe bello che chi sceglie la squadra Fortnite Utilizzi come personaggio o Peach Tanuki o Mario Tanuki Oppure potrete scegliere se schierarvi con la squadra Clash Royale E in quel caso ragazzi visto che questo personaggio ha la corona Sarebbe bello che tutti quelli che sceglieranno questa squadra utilizzino come personaggio King Boo Come sempre ragazzi correremo 8 corse Potrete scegliere qualunque tipo di veicolo Quindi o kart o moto Il codice del torneo per partecipare è 410807008811 Nella descrizione di questo video potete trovare le istruzioni su come utilizzare questo codice Vi ricordo che per partecipare non è necessario inviarmi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzerò per giocare su questo titolo Però dal 19 febbraio ragazzi potrete inviarmi nuovamente la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo per giocare su Mario Kart 8 Deluxe Perché il 19 febbraio effettuerò un reset del profilo Quindi cancellerò tutta la lista amici Così tutti quanti potrete reinviarmi la richiesta d'amicizia Chi è già presente nella lista attuale potrà reinviarmi tranquillamente la richiesta d'amicizia Va bene ragazzi eccoci arrivati su Splatoon 2 Vi ricordo che ho dei posti disponibili nel profilo Quindi se volete potete inviarmi tranquillamente la richiesta d'amicizia Come settimana scorsa ho deciso di organizzare di nuovo due eventi su questo titolo anche questa settimana Uno nella lobby privata e si svolgerà il 15 febbraio dalle 17 alle 18 L'altro nella lobby pubblica così potrò guadagnare punti esperienza per cercare di raggiungere il livello 20 E si svolgerà il 17 febbraio dalle 18 e 30 alle 19 e 30 Va bene ragazzi eccoci tornati su ARMS Anche questa settimana sarò online su questo titolo Il 15 febbraio dalle 20 e 30 alle 21 Il giorno di San Valentino invece ragazzi il 14 febbraio botte da orbi su Miniguns Sarò online dalle 20 e 30 alle 21 Vi ricordo che potete inviarmi la richiesta per entrare a far parte del mio clan ufficiale su questo titolo Vi ricordo ragazzi che potete scaricarlo gratuitamente da Steam per il vostro PC oppure sul vostro smartphone Inoltre ragazzi se invierete la richiesta per entrare a far parte del clan Vi ricordo di seguire le 5 regole che vedete a schermo Soprattutto la seconda Va bene ragazzi eccoci tornati su Rocket League A breve vi pubblicherò anche le partite che abbiamo giocato sabato sia su Switch sia su PS4 Anche questa settimana sarò online su questo titolo Il 16 febbraio dalle 18 alle 18 e 30 su Switch Il mio ID lo potete trovare nella descrizione di questo video E dalle 18 e 45 alle 19 e un quarto su PS4 In entrambi i casi per unirvi a una partita privata Basta andare su gioca online, cliccare su unisciti a partita privata E poi inserire il nome del torneo e la password che vedete lì sopra a schermo Nome del torneo Rocket Cup, password 12345678 Il mio profilo PS4 ufficiale è Jopad17 Va bene ragazzi mi pare come sempre di avervi detto tutto Vi ricordo di seguirmi sui miei social Quindi sulla mia pagina ufficiale Facebook Sul mio canale ufficiale Telegram Sul mio profilo ufficiale Instagram E su recordinggame.it Una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay Come sempre ragazzi vi ricordo di controllare anche la sezione community del mio canale YouTube Perché ogni tanto vi posto dei messaggi anche lì La potete controllare anche dal vostro tablet e smartphone E come sempre ragazzi vi ricordo che ogni lunedì troverete sempre sul canale un nuovo InfoTime Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate, condividete, iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui nell'InfoTime Alla prossima ragazzi